Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Allora Oggi faremo un po' di spacchettamenti Purtroppo ho fatto un video Che ormai si è eliminato E avevo trovato Al Arby e un Hector Un 104, un 106 Boni Ma non per la mia squadra Stavamo dicendo Che andavamo a fare un po' di partita Sconfitta? Bene Grazie al cavolo Non carica la parega Miesi ori Fugoso Tiriamo Prima di iniziare a fare le partite Per ricordare, iscrivervi al canale Lasciate la campanellina Lasciate il like Per non perdere le vestine Nessun nuovo video E vabbè Sempre se volete Non è un obbligo Ricordatelo E vabbè Che dire Oggi completiamo Pure le missioni Per Così forse Sblocchiamo un po' di gem E ci facciamo un po' di spacchettamenti Ma li tagliate I risultati Facciamo Di Sadeco Sempre si carica E ci facciamo un po' di Sto caricando Sto caricando Allora ragazzi Porca laca Carica Ho caricato ragazzi Che fortuna Che fortuna Bologna Bologna Che fortuna Che fortuna Che fortuna Che fortuna Vai con la filtrante Cavolo Busca guarda il difensore 4 2 guarda scania parte la filtrante buscas parca o gol guarda la punizione di teo guarda scania givermi guarda scania guarda scania buscas 10 a 3 che cavolo fai buscas porca vacca 10 a 3 completata guarda scania e' come la scena parola continuiamo ottimo passaggio bella 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 ora ragazzi mi amo ragazzi oh su cosa mi sembra va a fare un video con me allora se ho detto un mio amico Andre ha paura non ne ha no fria 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 ho se vede a qu'a descritti o And now what's the I don't wanna wanna see I don't wanna wanna meet you Don't care No frie I don't wanna wanna see No frie I don't wanna wanna see I don't wanna wanna meet you Don't care No frie Adoro le get Ok, continuiamo il video Sì Che dire Spacchettamento Oh Ciao tu che merla Sì Vabbè Continuiamo Cento Oh Non si dicono le parolacina Eh non ho fatto niente Non sono solo degli altri Allora raga oggi puntiamo ad osario Che vado a fare Sto facendo un video Oh Andre Parline No mi ha fottuto male E dammi il mio euro Ah se l'euro Se devi fare l'euro Ah Car Ragazzi non mi ha fregato pure un euro Guarda Non dà lì No Lo so Iniziano così Le partite Ma tanto poi me la recupero Una volta per perdere 2 a 0 Da 2 a 0 Mi ha vinto Dici a 2 La 1 E iniziamo con 1 a 1 Dopo 2 secondi Vai Subito subito Poi ci metto Il 2 a 0 Lo so che sono troppo vanitoso Non dovrei essere Il 2 a 1 No il 2 a 0 Eh lo devo fare Eh tu hai detto 2 a 0 Prendete il gol Un saluto Guarda Donovan Donovan Falcao Falcao Parte la bomba di Falcao Gol Sotto il 7 2 minuti 4 minuti Ogni 2 minuti un gol Non so che mia zia Ma mia zia Se ne sono andati Ah Mia zia Mia zia Se ne sono andati Ah i tuoi ziii E la tua Ah Lo so che Com'anzo ai tuoi genitori Eh perché Perché la nonna No Non nostra nonna Ma vabbè Ti posso dire il nome Sì Il nome di questa zia zio Eh Sì Si chiamano Nata e Monica Eh Poi Nando Le ha chiamato Nando Ehm Gia aveva una chiamata E arriva Va a noi Arriva E di Ehm E chiama Qualcuno Cioè la sua nonna Quindi La sua nonna Sta male Quindi se ne sono andati Prima Raga per dire che oggi Stasera Ci sarà la Laving Parleremo Delle nostre sventure No io Io non ti Non posso dire Ma mica Stavo dicendo con te Lo so Ehm Praticamente Parliamo Delle nostre sventure E a fine video Ma se No E a fine video Ehm Ci Faremo Roboli No faremo Prende Faremo Come si chiama Roboli Bloody Mary Allo specchio Che volevo Che volevo Giocare a casa Va bene Dopo ci giochiamo Però Non tirare le porte Perché Stai tu in porta Va bene Tanto Sono un porcherone Piesantissimo Ciao Fai certe parate Fai Parte il tiro Di falco Ah Sta facendo La finta Ma non me ne Devo andare Alle 9 Di stasera Lo sai che io Me ne vado Alle 10 No Guarda Prendi Prendetelo Non te ne vai Alle 10 Lo sai perché 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 c'è Batti live Eh C'è Batti di live Lo so Infatti C'è la live Alle 9 No Alle 9 e mezza Mamma io No io ce la Dai fare No 4 a 1 Oh spacchettamento Rullo di tamburelli Portoguere Il calcio Workout Workout Portoguesa A ti Eh ben finta No Cinque milioni Che schifo Scherzo ragazzi Che scherzo Altra partita Yey Poi ci facciamo Un altro Spacchetto Non hai fatto un gol Hai fatto un gol Però sta perdendo Eh Grazie al cavolo Ogni partita Comincivo Però una volta Io sono partito 1 a 0 Io una volta Sono partito 5 a 0 E ovviamente Ho vinto 6 a 5 Eh Quanto? 6 a 5 Come? Mi ha perso Hai vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Cioè quindi Tu hai fatto un gol E l'altro Ha fatto 5 gol Eh No Zero gol Io Vabbè Zero Come tu? Quindi tu hai perso No E poi Ho fatto 6 gol Cioè quindi Stavo a perdere 5 a 0 5 a 0 5 a 1 5 a 2 5 a 3 5 a 4 5 a 6 Come hai fatto? Sono forte Sono forte Sempre in un minuto Sì No in un minuto No è troppo 45esimo 90 91esimo Ma Ho fatto il sasso gol Al 90 Al 91esimo Vabbè raga Continuiamo Mi ero scordato di voi Raga tra pochissimo Concluiamo il video Perché Sperato che 13 minuti Sono passati Sperato che Sperato che Sperato che Sperato che Sperato che 13 minuti 13 minuti Sperati Sperato che Sperato che Però poi Dobbiamo fare L'ultimo spacchettamento Concludiamo il video A me Sembrano essere passati Due minuti Quando sto con voi Sperato che Sperato che Sperato che Sperato che Sperato che Iling Tidi Sto pacchetti mi cadeva pure in stile Ozyman Ozyman Portaglio scudetto Ayunabuno Vediamo se posso stare quel giocatore tanto successo di nuovo Tidi Si sto cavolo A me ha difeso serve Oh qua si può aprire No Vabbè raga Finisce il video ma Prima di vi dirlo vi ricordo di Iscrivervi al canale Lasciare mi piace e attivare la campanella Per non perdere nessun video Ciao Ciao